Lunedì 2 marzo alle ore 10 e 30 presso la sede della provincia di Salerno a Palazzo Sant'Agostino si terrà l'incontro con i sindaci dei comuni della provincia per discutere di Covid-19 e dell'emergenza sanitaria in corso in Italia. Durante l'incontro di ieri mattina in prefettura dichiara il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo abbiamo deciso di convocare i sindaci del nostro territorio per fare insieme il punto della situazione l'incontro che si terrà lunedì mattina a Palazzo Sant'Agostino ha lo scopo di gestire al meglio l'aspetto medico epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del virus ma va gestito anche l'aspetto psicosociale della nostra comunità cioè la percezione del rischio che non va sottovalutata l'emergenza in atto nel nostro paese è stata affrontata sia dalle autorità nazionali che regionali attraverso vari provvedimenti che hanno disciplinato i comportamenti da tenere e le misure di prevenzione faremo insieme il punto con la presenza del prefetto di Salerno e degli altri componenti del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica anche al fine di garantire un corretto circuito informativo interistituzionale armonizzare gli interventi delle istituzioni e in particolare dei sindaci che dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia sanitaria nonché alle disposizioni del governo e della regione Campania